Marco Origoni, quarta stagione con la maglia della Fulgor, prima hai detto ogni anno questa squadra, questa società soprattutto, ha aggiunto qualcosa. Ti piace allora la squadra di quest'anno? Sì, sì, mi piace molto. È stato ogni anno davvero, abbiamo aggiunto qualcosa. Quest'anno credo sia, come ho detto l'anno scorso, una volta buona. Però sicuro siamo duri, tosti, anche se il giro non è semplice perché abbiamo tante trasferte lontane, potremmo fare molto molto bene. Quanto è importante in questo viaggio fare in modo che tutte le componenti reminino dalla stessa parte? L'ha detto prima il coach, l'ha detto Michele, lo hai ricordato tu nel tuo intervento? Tanto, tantissimo. Infatti secondo me la difficoltà maggiore di ogni anno è far sì che ognuno vada nella stessa direzione. Quindi cercheremo di lavorare fin da subito affinché questo accada per arrivare poi pronti a maggio che le difficoltà vere arriveranno lì. Quindi se saremo pronti a maggio voglio dire che tutto sarà un po' più facile. Tanti dicono che Omegna nel Girone Nord è la grande favorita, un peso, una responsabilità, un onore? Tutte e tre le cose secondo me è un peso perché comunque avere sempre il favore del pronostico è sempre un grande peso. Tutto il resto comunque viene di conseguenza nel senso che abbiamo sempre le squadre che andremo ad affrontare che vorranno batterci per farci fare brutta figura. Quindi ogni domenica affronteremo squadre guerrite. Però come ti dicevo la parte importante è poi a maggio. Il Girone ogni domenica è una guerra. Quindi lavorare duro in settimana per poi arrivare pronti affinché non accada di fare brutte figure.